amici cari fratelli e sorelle pace a tutti quanti voi grazie a dio siamo all'inizio di un nuovo giorno e ci rallegriamo nel signore perché anche in questo vediamo la bontà e la misericordia di dio che si rinnovano ogni mattina continuiamo le nostre meditazioni sul capitolo 17 del libro degli atti e soffermiamoci stamattina sui versi da 16 a 34 dove è riportato il discorso nell'areopago da parte di paolo paolo che insieme a si l'abbiamo visto aver hanno predicato l'evangelo prima a tessalonica poi a barea e ora si ritrovano nella città di atene la città di atene era una città idolatra e leggiamo al verso 16 che lo spirito di paolo si inacerbiva nel vedere tutti quegli idoli ma il suo scopo naturalmente era quello di annunziare il vangelo di cristo e allora fa una cosa molto semplice va nella piazza dove sapeva che le persone solitamente si riunivano e comincia a presentare il messaggio di gesù e infatti egli partendo un po dalle conoscenze letterarie che aveva perché paolo era un uomo anche di cultura partendo ricevo da quelle conoscenze letterarie arriva a parlargli del signore e lo spunto è una 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 statua che si trovava nella città di atene una stata che era dedicata al dio sconosciuto e egli dice proprio di questo dio che voi non conoscete io voglio parlarvi può sembrare strano soffermarsi su questo perché oggi tanti di noi si dichiarano cristiani e quasi tutti dicono di credere in dio e di conoscere dio ma la realtà è che lì dio della bibbia un dio purtroppo sconosciuto perlomeno a molti e questo perché dio si rivela all'uomo per mezzo della bibbia della sua parola ma di persone che leggono la parola di dio e la leggono col desiderio di conoscere dio non ce ne sono tanti non è che non ce ne sia nessuno ma non sono moltissimi e per coloro che non leggono la parola di dio il vero dio rimane un dio sconosciuto ed ecco perché a prescindere dalla religiosità che viene manifestata da alcuni ma che è fondata soltanto su delle credenze su degli insegnamenti religiosi che sono stati tramandati e che spesso non hanno nulla a che fare con l'insegnamento della scrittura ecco perché è necessario dicevo ancora oggi parlare di gesù ed annunziare la verità dell'evangelo perché questa verità mi ripeto è una verità sconosciuta e paolo è saggio nel parlare non attacca la fede di queste persone anzi addirittura inizia dicendo che li elogia li elogia perché vede che sono estremamente religiosi ma poi non può fare a meno di dire che c'è al di fuori della loro religione religiosità una via una via che è diversa da quelli in cui credono e questa via appunto gesù d'altronde gesù poter dire io sono la via la verità e la vita e d'altronde solo gesù è colui che è morto sulla croce per la salvezza degli uomini e quindi solo gesù è la via che permette agli uomini di poter entrare nel regno di dio non solo paolo non si limita a parlare di una via che porta verso dio ma comincia a parlare anche di un altro aspetto molto importante vale a dire quello della resurrezione e qui inevitabilmente molti continuano cominciano ad allontanarsi perché la rottrina della resurrezione era qualcosa che non andava a genio alla maggior parte dei greci ma noi vogliamo ancora oggi ribadire un concetto e cioè che verrà il tempo in cui tutti risorgeremo ora ve ne saranno alcuni che risorgeranno a vita eterna dice la scrittura chi sono costoro sono quelli che hanno accettato cristo come loro personale salvatore che si sono quindi pentiti ravveduti nei loro peccati e che hanno camminato in novità di vita sono coloro che hanno cercato la pace la santificazione perché senza la santificazione dice la scrittura nessuno vedrà il signore sono coloro che per dire un'espressione di gesù non hanno amato la loro vita ma sono stati pronti a donare loro stessi al signore affinché non si facesse come loro volevano ma si facesse secondo la volontà di dio ecco o accanto a costoro ci saranno coloro che alla fine dei tempi risusciteranno invece a morte eterna sono coloro che partecipano alla resurrezione che avverrà dopo che satana sarà sconfitto definitivamente costoro saranno separati eternamente da dio dice la scrittura che saranno gettati nello stagno ardente di zolfo e di fuoco insieme a satana al dragone al falso profeta a tutti gli angeli che seguirono satana e a tutti gli altri che non avranno accettato gesù cristo nella loro vita come sarà questo luogo beh la bibbia è chiara e anche cruda parla di un luogo dove ci sarà tormento dolore sofferenza pianto stridore dei denti ecco perché è quanto mai necessario assicurarsi di essere in cristo perché solo in quel caso noi potremo scampare la dalla dall'ira di dio che si manifesterà sugli uomini ribelli ribelli naturalmente al sacrificio di cristo ed ecco perché vogliamo con tutto il cuore ogni giorno affidare la nostra vita nelle mani del signore e ogni qual volta veniamo meno o pecchiamo come sarebbe più giusto dire pentirci ravvederci e chiedere che il sangue di gesù cristo ci continui a lavare e purificare dei nostri peccati coraggio fratelli e sorelle e coraggio guardiamo al signore guardiamo a quello che egli sta preparando nel cielo per i suoi diletti camminiamo nella via della santificazione camminiamo nella via della devozione non lasciamoci e attrarre dal mondo e dalle sue concupiscenze ma rigettiamo le cose di questa terra e volgiamo lo sguardo verso le cose di lassù perché allora saremo certi che quando lasceremo questa terra entreremo nel riposo di dio e un giorno regneremo con lui per l'eternità camminando per le strade della nuova gerusalemme che questa speranza possa essere viva nei cuori di ognuno di noi e che ci possa accompagnare in questo giorno dandoci gioia pace forza e serenità che dio sia con tutti quanti noi pace del signore grazie 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 grazie